Ciao ragazzi sono Chris e benvenuti nel mio garage. Top Shack dopo il successo del TS-PV1 ha deciso di dare una piccola svolta ai suoi utensili a batteria ed ha creato una nuova linea di utensili tra cui troviamo TS-PV2. TS-PV2 è un avvitatore a percussione o ad impulsi con motore brushless 330 newton metri, batteria da 21 volt 3 ampere, questa volta venduto in una bella valigetta. Vi anticipo già qualcosa, l'ho messa alla prova, funziona davvero bene e i valori dichiarati sono molto molto vicini a quelli reali. Lo trovate nel sito Banggood, è un prezzo di partenza intorno ai 100 euro ma a questo prezzo non lo troverete mai perché c'è sempre applicato un codice sconto. Ad esempio, prendo il mio classico fogliettino, prima di registrare questo video 99 euro, meno 47%, prezzo finito 52 euro. 52 euro trapano, batteria, carica batteria e tre bussole impact incluse. Naturalmente tutto in valigetta. Ora avviciniamo alla telecamera, vediamo le caratteristiche tecniche, vediamo com'è fatto e poi lo mettiamo alla prova grazie a queste due belle dinamometriche. Questa è una dinamometrica professionale pesantissima e questa è una 0200, quindi possiamo testarlo fino alla sua coppia massima. Ok, spostiamo per ora le dinamometriche e avviciniamo la telecamera. Vi arriva in questa confezione, all'interno trovate questa valigetta. Finalmente utensili in valigetta. La valigetta è abbastanza rigida, simpatica, con il logo top shock in evidenza, una sagoma molto futuristica, punto di deformazione per l'apertura, chiusure in plastica rossa. Aprendo la valigetta noi troviamo all'interno il nostro avvitatore, la nostra batteria, eventualmente come vedete c'è spazio per un'altra batteria. Tre bussole, 17, 19 e 22. Sono bussole impact con la possibilità di inserire, come vedete qua, l'oring di bloccaggio con la spinetta, vedete? Per non far cadere la bussola durante il lavoro. Bussole quindi con innesto da mezzo pollice, quadrato. Troviamo naturalmente tagliandino per la garanzia, dei piano informativo di tutta la linea top shock e manuale di istruzioni, scritto anche in italiano, molto chiaro. E una delle novità che troviamo nei nuovi modelli è questo, il carica batterie da banco, che finalmente ha una potenza adeguata per le batterie in dotazione da 3 o da 4 ampere ora. E che è possibile, come vedete, appendere alla nostra parete millefori, questa che vedete dietro, oppure appenderla a muro con dei tasselli, per riporre il carica batterie e batterie in modo più ordinato. E finalmente si abbandona questo carica batterie. Usciamo tutto dalla confezione e vediamolo più da vicino. Allora, eccolo qua. Molto, molto piccolo e molto compatto. Guardate la mia mano, guardate quando è piccolino nonostante i 330 Nm. Sulla parte della scocca notiamo BL motor, brushless motor. Tutta la scocca è in plastica, molto rigida. Essendo molto compatto non si trova nessun punto dove la plastica flette. Molto ergonomica l'impugnatura, con un po' di spazio per l'utilizzo di eventuali guanti. Tutta la parte gommata è antiscivolo dell'impugnatura e antiurto in questa parte, anche se la parte più sporgente è questa qua ed è in metallo. Quindi stiamo attenti dove lo poggiamo. L'accetto, per attaccarlo alla nostra clip da cintura o alla nostra parete attrezzata. Batteria 3A 21V, compatibile Mati Makita. Per aprirla, classico pulsantino, si fa scorrere semplicemente in questo modo. La batteria ha la predisposizione per essere caricata anche col vecchio caricabatterie in dotazione. Sarà molto lento perché questo caricabatterie è solo da 1.2A mentre la batteria è da 3A ora. Mentre parliamo di caricabatterie vi faccio vedere il caricabatterie nuovo. Alette di raffreddamento, questa volta è un po' più pesante, vuol dire che c'è un po' di elettronica all'interno. Caricabatterie da 21V, 2.3A. Per inserire la batteria è molto semplice, si fa scorrere e si inserisce in questo modo. Parte frontale tutta in metallo, che serve a dissipare anche la temperatura generata dagli impatti, dalle percussioni. Piccole prese d'aria qui con una ventola che si vede. E nel frattempo avete sentito il rumore caratteristico del motore brushless. Lampadina frontale, che rimane accesa anche qualche secondo dopo aver rilasciato il grilletto, il grilletto è modulabile e ci permette di regolare la velocità e nel momento in cui si inserisce la percussione anche il numero di impatti. Selettore per il senso di rotazione. Qui troviamo un pannello di controllo come quello che avevamo visto nel TS PV1. Abbiamo indicazione dello stato di carica della batteria su tre led e i due led che ci fanno capire la velocità selezionata. Il led di sotto è prima velocità, quindi fino a 1950 giri. Led superiore, questo, secondo velocità, fino a 2380. Si percepisce la differenza. Questo quando siamo in modalità avvitamento, quando dobbiamo andare in modalità per svitare, quindi così, le modalità cambiano. Abbiamo una modalità automatica, identificata da questo pallino, oppure la modalità massima coppia di serraggio a svitare. Cos'è la modalità automatica? La modalità automatica ci dà la possibilità di svitare senza far cadere a terra il dado, per esempio, quando svitiamo, quando smontiamo la ruota della macchina, perché il bullone o la colonnetta sono molto piccoline, quindi basterebbe fare qualche giro in più a far cadere il dado. Praticamente come funziona? Lo sto simulando in questo caso. Noi premiamo il grilletto, non è modulabile, l'avvitatore girerà alla massima velocità e alla massima coppia per rallentare il dado. Quando il dado o il bullone perdono l'attrito, quindi diventano molto leggeri, l'avvitatore si bloccherà automaticamente. Modalità di arresto automatico. Prima di farvi vedere come lavora, andiamo a verificare qualche parametro. Iniziamo col peso, con tutta la batteria, 1,6 kg. Verifichiamo ora la velocità di rotazione. Allora, velocità 1, 1,837. Diciamo che contro i 1950 dichiarati ci siamo alla grande. Velocità 2, 2,387,85. Contro i 2380 dichiarati. Perfetto. Ulteriore verifica per quanto riguarda la batteria. Abbiamo delle celle 18650p da 1500 mAh e quindi 1500 e 1500. Ecco i 3A dichiarati. Controlliamo anche il voltaggio. 20 volt, 20.3. Considerate che la batteria l'ho usata già una decina di minuti per fare qualche prova. 20.3. Questo è il modulo BMS che gestisce le fasi di carica, di scarica della batteria e che garantisce anche due tipologie di protezioni. Protezione al sovraccarico, protezione al surriscaldamento. Se il vostro avvitatore dopo un utilizzo intenso si dovesse bloccare non significa che si sia danneggiato ma è questa scheda che mandi in protezione tutto il sistema o perché la batteria si sta scaricando troppo velocemente e si sta surriscaldando o forse perché stiamo chiedendo troppo all'avvitatore. Dopo qualche minuto quando vengono ripristinate le condizioni ritornerà a funzionare. Non è molto invasiva la protezione e per farvi capire nei test che ho fatto io e che vedremo durante il corso del video questa protezione non è mai intervenuta. Quindi vi permette di lavorare anche con dei ritmi abbastanza sostenuti. Allora ragazzi gli ampere dichiarati sono reali. Voltaggio è reale naturalmente 21 volt. Le due velocità dichiarate sono reali. Andiamo a fare ora la verifica della coppia di serraggio e cercare di capire soprattutto in quanto non è dichiarato nel manuale di istruzioni la coppia di serraggio a velocità 1 e la coppia di serraggio a velocità 2 che dovrebbe essere 330 Nm in questo caso. Per fare questo utilizzerò due dinamometriche una con scala 0200 e una con una scala un po' più grande che mi consentirà di copire tutto che mi consentirà di fare quel test fino alla massima coppia di serraggio di questo avvitatore ad impulsi. Devo ringraziare per questa dinamometrica professionale devo ringraziare il mio amico Fabio un motociclista che ha un'officina. Officina Zappulla a Priolo in via Pietro Mascagni 21. Non lo dico perché è un amico mio o perché mi ha prestato la dinamometrica ma è un meccanico molto bravo professionale e soprattutto molto molto preciso e puntiglioso. La caratteristica che ormai molti meccanici hanno perso perché si cerca sempre di ottimizzare i tempi e di fare le cose nel più breve tempo possibile per soddisfare i più clienti. Fabio è molto puntiglioso e vi consiglio quindi se dovete fare il tagliando la macchina quindi sia manutenzione ordinaria che manutenzione straordinaria se siete di Priolo delle vicinanze o della provincia di Siracusa vi consiglio di andare da lui non ve ne pentirete. Questa è una dinamometrica a taratura fissa. Per essere sicuro che la dinamometrica non mente l'ho testata confrontando i valori fino a 200 Nm con questa dinamometrica e l'ho testata confrontando i valori con un'altra dinamometrica 0500. Posso considerarla affidabile. Quindi andiamo a mettere alla prova questo avvitatore con una struttura che ho realizzato per testare avvitatori a percussione. Partiamo da 100 Nm. Dinamometrica piccola 100 Nm. Va bene scattato subito penso che possiamo andare a 140 140 è scattata 160 è scattata 170 180 190 200 220 ho fatto lo scatto 240. Forse si è mosso di un millimetro. Vediamo 260. Sì 260 si è mosso. 240 probabilmente ha fatto un millimetro. Quindi in modalità bassa coppia di serraggio o velocità uno siamo tra 220 e 240 Nm. Ok 280 ha fatto lo scatto. Andiamo a 300. Ok 300 ha fatto lo scatto. 320. Allora si è spostato di un millimetro. Allora lo so avete dovuto utilizzare una bussola impact piuttosto che questa dell'USAG normale però essendo di buona qualità non si è rotta. Da alcuni test risulta che utilizzando le bussole non impact si hanno dei risultati leggermente inferiori per il materiale con cui sono costruite le bussole. Però i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. Infatti possiamo dire che in modalità bassa coppia di serraggio o velocità uno ha una coppia di serraggio tra 220 e 240 Nm. A 220 scattava. A 240 come avete visto ha fatto una livissima rotazione. Mentre in modalità alta coppia di serraggio o alto numero di giri o velocità 2 siamo intorno ai 310-320. Io direi più 310 perché a 310 la dinamometrica ha fatto uno scatto. A 310 è scattata. A 320 si è mossa proprio in modo quasi impercettibile. A 330 si è mossa di 3 mm. Quindi 330 dichiarati non ci sono. 310 sicuramente ci sono. Quindi mi sta benissimo come misura avere una coppia di serraggio di soli 20 Nm in meno di quelli dichiarati. Ok ragazzi siamo arrivati alla fine. Non ho fatto la classica prova di smontare le ruote perché con queste coppie di serraggio non avrei nessun tipo di problema a svitare le ruote che sia della macchina o del furgone. Anche perché utilizzando avvitatori così potenti per le ruote rischiamo di danneggiare cerchio, bullone, colonnetta, dado e filettatura. Ok avete capito che questo avvitatore a me è piaciuto. È veramente molto piccolino. Nonostante ha 330 Nm è molto piccolo e compatto o quantomeno la parte dove alloggia motore elettrico e meccanismo. Naturalmente la parte sottostante è sempre grossa perché la batteria da 3 ampere inevitabilmente occupa il suo spazio. Quindi ve lo consiglio. Se lo volete comprare troverete il link in descrizione e se ho un codice sconto sotto il link lo metterò tra parentesi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e non dimenticate sempre, ve lo dirò alla fine di ogni video, di iscrivervi al gruppo TopShack Italia. Si parlerà di tutto quello che riguarda gli utensili TopShack. Ciao!